Nello scorso video sul canale YouTube abbiamo visto come scattare fotografie di scarpe per l'e-commerce. In questo video andiamo a vedere come ritoccare e ottimizzare questi scatti per l'e-commerce. Spiegherò ovviamente tutti i passaggi e tutto il flusso di lavoro spiegandovi anche dei piccoli trucchetti che possono essere utili nel momento del ritocco. Io vi ricordo che se volete esercitarvi trovate qui sotto in descrizione il link al download delle immagini e mi raccomando fatelo perché è davvero importante. Soprattutto ricordati di continuare a supportarmi lasciando un bel mi piace, un commento e iscrivendoti al mio canale se ancora non sei iscretto. Ci troviamo su Photoshop e vi faccio rivedere un attimo le fotografie che abbiamo scattato nel precedente tutorial. Non so se le andrò a ritoccare tutte perché poi i passaggi sono gli stessi ma voglio darvi alcuni consigli per quanto riguarda la fase di ritocco. Abbiamo visto in fase di scatto che il layout guida è meglio crearlo in Capture One perché ottimizzare già di taglio proprio in fase di uscita ci va a rendere molto molto più veloce la fase di post produzione. Ma se ciò non dovesse essere possibile perché magari scattato in camera o per altri motivi voglio andare a creare per voi un'azione che andrà a creare un layout automatico sempre costante tra tutte le immagini. Vi faccio vedere in che modo. Innanzitutto prima di eseguire l'azione quello che dovete fare è andare a ritagliare la scarpa praticamente toccando i due lati quindi destro sinistro ma soprattutto la parte in basso quindi allineiamo in questo modo al frame la nostra scarpa. Do un invio mi raccomando assicuratevi di non aver selezionato elimina i pixel ritagliati. Adesso ho creato già una nuova azione la vado a registrare. Innanzitutto vado a ridimensionare il quadro con Command Option C da tastiera e imposto in percentuale l'estensione del canvas. Do una percentuale di 110 a 110. Ok abbiamo questa impostazione. Rilancio di nuovo la shortcut quindi dimensione quadro di nuovo. Andiamo in percentuale questa volta 120 e 120 diciamo è una giusta dimensione. Vado però ad ancorare il punto in alto in modo che mi venga esteso verso il basso. Do un ok e praticamente bloccando l'azione abbiamo la nostra scarpa impostata in questo modo. Quindi abbiamo ovviamente questo è uno stivaletto quindi è giusto che tutte le scarpe siano leggermente più in basso e non al centro perché se capitano scarpe più alte poi abbiamo difficoltà perché escono fuori dal frame o sono comunque tutte spostate in alto. Quindi per una questione di bilancio secondo me di bilanciamento è giusto averle più verso il basso. Ovviamente non ci preoccupiamo se abbiamo un'estensione del fondale perché noi andremo a rimpiazzare semplicemente con un colore tinta unita bianco che vado già a creare e porto al di sotto. Adesso dobbiamo procedere con lo scontorno. Qui possiamo muoverci in diversi modi e sapete che sul canale YouTube ci sono tantissimi tutorial per quanto riguarda il come scontornare oggetti per l'e-commerce ma se il cliente ha bisogno di una fotografia su bianco senza png eccetera possiamo procedere in questo modo. Andiamo a selezionare un livello curve, imprendiamo il campionatore del punto di bianco e ci avviciniamo quanto più possibile a un punto esterno del frame che di solito è sempre in caduta di luce. In questo modo andando a campionare noi andiamo ad impiazzare il bianco intorno a tutta la scarpa in un semplice click. Se poi vogliamo assicurarci che questo bianco sia realmente bianco, tra le mie infinite azioni che in questo caso dovrebbe essere in ritocco generale c'è una che si chiama white check. Se la andiamo ad eseguire praticamente ci mostra in nero tutto ciò che non è bianco puro. Quindi intorno alla scarpa è tutto bianco puro ma in queste zone in alto no. Cosa facciamo? Andiamo a prendere lo strumento scherma qui al lato o da tastiera e andiamo a bruciare le luci. Mi raccomando deselezionate il proteggi tonalità se no non porterà mai i toni a 255. Andiamo a impostare un'esposizione su 20% e quindi vado a bruciare in queste zone qui. Quindi guardate adesso abbiamo un bianco puro intorno a tutta la scarpa. Vado a rimuovere il livello del white check e praticamente tramite questo livello abbiamo praticamente scontornato la nostra scarpa. Questo livello curve quindi che abbiamo utilizzato va a comprimere un po' l'istogramma ma non è un problema perché come sapete su Capture One io appositamente vado a lasciare diciamo l'immagine un pochino più piatta proprio perché so che quando vado ad eseguire questo metodo andrò ad avere un contrasto maggiore su tutta la scarpa. Come vedete va a recuperare un pochino di contrasto anche sulle luci della scarpa senza bruciarle. Quindi praticamente questo è il metodo che ci permette appunto di andare in questo caso come vedete noi abbiamo comunque il bianco intorno alla scarpa quindi possiamo lavorare anche su un livello unico. Abbiamo semplicemente rimpiazzato il bianco intorno. Se al cliente poi dovesse servire anche una PNG noi stiamo comunque lavorando sul TIF ma se al cliente serve sempre la PNG dobbiamo procedere ovviamente con lo scontorno però lo vedremo magari nel prossimo passaggio. Andiamo adesso a controllare ovviamente se c'è polvere sulla scarpa quindi mi avvalgo ad esempio del pennello correttivo al volo oppure per essere più veloce c'è sempre l'azione tra le mie azioni che si chiama polvere e graffi. La vado ad eseguire Mayus F2 da tastiera ma potete impostare qualsiasi pulsante vi pare e piaccia. Abbassiamo la soglia perché ovviamente non vogliamo andare a rimuovere anche texture dalla scarpa e vi faccio vedere che già in questo modo sto andando a rimuovere alcuni dei puntini di polvere. Diamo un ok e poi con il pennello storia Y da tastiera vado a pennellare lì dove c'è della polvere. In questo caso è una scarpa di pelle quindi facciamo attenzione perché appunto non dobbiamo toccare poi in questo caso guardate va a sfocare un pochino la texture quindi se dovesse essere necessario procediamo comunque con il pennello correttivo al volo perché spesso fa un ottimo lavoro a volte ovviamente inizia un pochino a dare i numeri perché appunto crea cose dal nulla però continuiamo a procedere con la pulizia in questo modo. Qui all'interno ad esempio se vogliamo rendere bello pulito il ritaglio possiamo utilizzare lo strumento penna in questo modo ovviamente su alcune tipologie di prodotti non sarà nemmeno necessario fare questa tipologia di pulizia dipende sempre da quanto dovete pulire il prodotto in questo modo vado a riempire proprio di bianco e vedete già che abbiamo solamente questa striscia centrale da rimuovere ovviamente c'è qualche altro puntino di polvere ma non li vado a rimuovere tutti perché è un tutorial solo a scopo dimostrativo. Come rimuoviamo questo? Vi dico già che se utilizziamo il pennello correttivo al volo potrà fare un ottimo lavoro ma come vedete va a creare sempre questi aloni strani. Se utilizziamo il timbro clone con opacità basse potremmo risolvere ma andrà comunque a perdere un pochino la texture quindi in questo modo sapete benissimo che io adoro le frequenze quindi vado ad eseguire sempre la mia azione che trovate al link in download su un video dedicato ma c'è anche qui sotto in descrizione. Utilizzo quella polvere graffi perché mi permette di andare a eseguire le correzioni più ottimali su questa tipologia di materiali quindi in generale dipende dal tessuto. Sui tessuti con una trama molto fine utilizziamo il controllo sfocatura su altri utilizziamo il polvere graffi. Vado a utilizzare un valore di 15 in questo caso e poi lavoro sul livello delle basse. Qui possiamo provare a utilizzare il pennello correttivo al volo se ci inizia a creare comunque dei problemi per quanto riguarda il colore poi possiamo utilizzare altri metodi. Do anche una leggera pennellatura con il pennello miscela colori giusto per rendere più omogenee i colori e poi vado a lavorare sul livello delle alte quindi campiono con il timbro clone in questo modo facendo attenzione a non rendere il pattern troppo ripetitivo ma nemmeno troppo confusionale. In questo modo mi assicura appunto che non ci siano ripetizioni di pattern eccetera e vedete come in un click abbiamo risolto questo problema. Vado sempre a chiudere i livelli perché appunto stiamo lavorando su un livello unico. Questa scarpa potrebbe essere finita se non per il fatto che dobbiamo pulire al di sotto della scarpa. Innanzitutto quello che vado a fare sicuramente utilizziamo gli strumenti più semplici che ci offre photoshop perché non sempre abbiamo il tempo di creare livelli su livelli. Togli saturazione sempre ho da tastiera questa è la spugna in modalità togli saturazione perché possiamo anche saturare. Andiamo a impostare un flusso di 80% e pennelliamo in basso così praticamente. Ovviamente questo è il colore che va a riflettere la scarpa praticamente sul fondale in questo modo. Per pulire questo diciamo questo sporco dovuto alla carta questa grana possiamo utilizzare diversi filtri sfocatura ma vi dico che nessun filtro sfocatura si avvicina in realtà a questo metodo. Allora se vado a sfocare in questo modo inizio a sfocare anche i dettagli proprio della scarpa stesso. Vi faccio vedere che se appunto utilizzo il pennello storia poi qui vicino vado sì a pulire ma vedete c'è un alone perché questo è la sfocatura di questo pezzo della scarpa. Se utilizzo il filtro polvere e graffi quindi filtro disturbo polvere e graffi idem vengo a creare delle cose strane anche se a basso e soprattutto qui non viene a pulire benissimo. Cosa utilizzo quindi per pulire? Il filtro camera raw. Come sapete io utilizzo spesso alcuni strumenti che non sono per sviluppare il ferro ma che sono utilissimi per fare alcune cose in questa tipologia di foto. Se aumento la riduzione del disturbo guardate come viene mantenuto il contorno in maniera perfetta e vado a ridurre leggermente i dettagli. Guardate qui che sfocatura perfetta che abbiamo. Diamo un ok. Impostiamo lo stato storia con il pennello Y sul filtro camera raw. Andiamo a pennellare in questo modo. Se non vi sentite sicuri ovviamente potete fare semplicemente una copia del file e lavorare con maschera così da poter sempre tornare indietro. Ma guardate come tramite questo metodo riusciamo a pulire perfettamente quella che è l'ombra ed è davvero una sfocatura che non so perché non abilitano all'interno proprio di photoshop perché veramente nessuno strumento nemmeno lo sfocatore a superficie agisce in questo modo. Vado un attimino a rimuovere questi altri due puntini di polvere e quindi vedete questa è una foto perfetta di questa scarpa. La vado a salvare. Quindi questo sarà il caso nel quale appunto abbiamo bisogno di consegnare semplicemente delle foto su fondo bianco. Vado a chiudere la foto. Ovviamente il dettaglio inutile sarà ritoccarlo. Bisogna fare la stessa cosa. Quindi vado a chiudere questa immagine. Magari andiamo a ritoccare questa immagine adesso. Possiamo utilizzare di nuovo il layout ma vi consiglio su questa tipologia di foto quindi di creare due layout. Un layout per le scarpe laterali e quindi per la suola. Quindi in questo caso perché appunto abbiamo maggior dimensione all'interno del frame mentre dall'altra parte è un po' più piccola. Quindi avremo poi una diversa uscita di un diverso output di foto. E appunto vi faccio vedere che se ritaglio anche in questo caso e poi lancio l'azione scarpe layout. Guardate come abbiamo sempre lo stesso layout. Anche in questo caso vado velocissimamente a fare il ritocco. Poi vi faccio vedere che se create anche l'azione per ridurre il disturbo guardate in quanti pochi passaggi ho praticamente effettuato il non lo scontorno ma semplicemente la pulizia ed impiazzo del fondo bianco di questa immagine. Ovviamente ci sarà da pulire appunto tutta la polvere ma anche lì lancio l'azione. Abbasso un pochino la soglia in questo modo. Pennello Y. Vado a pennellare su tutta la scarpa. Non fa niente se perdo qualche dettaglio perché tanto sono fotografie per l'e-commerce e praticamente questa foto è già pronta. C'è da lanciare anche il white check. Lo possiamo fare un attimino velocemente. E come vedete appunto tutto intorno alla scarpa non abbiamo un punto di bianco. Siccome è troppo esagerato quello che vado a fare vado a rilanciare un attimino il bianco in questo modo. Quindi vado a campionare in questa zona in alto. Vedete adesso abbiamo un pochino più di bianco intorno e semplicemente con lo strumento scherma vado a fare di nuovo questa cosa. Quindi abbiamo la nostra foto pronta perfetta da salvare. Adesso su questa tipologia di foto quindi scarpa eccetera quello che posso fare è andare a lavorare su un layout manuale perché appunto dipende anche dalla dimensione della scarpa. Però in generale se lavorate su sneaker bus potete creare un'azione. Quindi di nuovo vado a ritagliare in questo modo. Do un 110% e 110% mi raccomando in percentuale sempre di base. E in questo caso possiamo andare a invece di aggiungere un 120% come prima aggiungiamo un 130 e un 130 e ancoriamo sempre il punto in alto. Magari no effettivamente in questo caso sono già centrate quindi invece di ancorare il punto in alto lasciamo così com'è il punto centrale. In questo modo e abbiamo le nostre scarpe. Questo è il caso in cui voglio farvi vedere come procedere con lo scontorno. Allora possiamo lavorare anche in questo caso in diversi modi. Con la penna siamo molto precisi ma anche molto lenti. Quindi dipende un attimino da quanto ci pagano e quanto tempo abbiamo. Essendo scarpe nere possiamo procedere anche tranquillamente con la bacchetta magica, con i canali, con quello che volete. Ci sono tantissimi metodi e soprattutto tantissimi tutorial qui sul canale. Diciamo che la bacchetta magica è quello che ci può essere più utile come strumento. Andiamo a fare una selezione, vado a invertirla con command shift i e adesso vado a lanciare il selezione e maschera per definire un attimino la selezione. Abbasso il raggio di sfumatura 1, abbasso anche la sfumatura. Questi erano dei valori che aveva presalvato da un altro scontorno e l'output me lo do con una maschera di livello in questo modo. Ovviamente non stavamo selezionando tutto l'esterno, quindi semplicemente lo andiamo a pulire noi manualmente. Crea un livello di colore riempimento. Vado a fare una selezione molto veloce intorno alle scarpe e riempio tutto di nero per rimuovere quella connicie che avevate visto. Quindi adesso abbiamo solo le scarpe. Dobbiamo andare a ritagliare fuori la suola. Semplicemente prendiamo lo strumento penna e facciamo molto velocemente questa operazione. Quindi in questo modo fatta la selezione vado a sfumare con un raggio di 1 e vado a riempire di nero. Quindi abbiamo solo le scarpe. Adesso ci serve l'ombra ovviamente. Dobblichiamo il livello col CMD CTRL J, selezioniamo la maschera e la riempiamo di bianco. Riportiamo un attimo i colori su default, quindi premiamo D da tastiera se non dovessero essere in default e con X invertiamo. Portiamo il bianco in secondo piano oppure in primo piano. Sono diverse le azioni da tastiera ma non voglio confondervi. Quindi CMD Backspace riempiamo di bianco. Abbiamo di nuovo la nostra ombra. Adesso ci serve selezionare solo l'ombra. Quindi prendiamo lo strumento penna. Andiamo a eseguire una selezione dell'ombra più marcata, quindi questa nera più definita, non di quella sfumata. In questo modo. Ovviamente possiamo essere anche grossolani con la selezione. Non ci serve essere precisissimi. Selezione. Diamo un raggio di sfumatura di 8 pixel. E adesso praticamente andiamo a invertire la selezione CMD SHIFT E. Quindi stiamo selezionando tutto l'esterno tranne questa parte. E riempiamo di nero. Premiamo D per riportare in default il nero in basso. CMD Backspace e praticamente abbiamo il livello dell'ombra. Possiamo andarlo a rendere bianco e nero. Vado semplicemente a rimuovere il colore con CMD SHIFT U. Quindi lo rendo in bianco e nero. E poi come prima possiamo andare a pulirlo se dovesse essere necessario con la riduzione del disturbo in questo modo. Quindi abbiamo il livello dell'ombra pulito e il livello della scarpa in questo modo. Foto finita. Ovviamente invece c'è da fare la pulizia della polvere. Quindi vi mettete lì, pulite tutta questa polvere e utilizzate le frequenze. Se ci sono ad esempio queste tipologie di difetti da rimuovere. Ma sulla pelle in particolare appunto se andate a fare questa cosa molte volte crea queste mini sfocature che non sono belle da vedersi. Quindi fate attenzione anche alla tipologia di strumento che utilizzate e date attenzione ai dettagli perché sono quelle piccole cose che fanno la differenza. Quindi finita la nostra pulizia semplicemente la foto è pronta e perfetta per essere salvata. Bene se questo video ti è piaciuto ovviamente iscriviti al mio canale. È davvero molto importante tutto quello che faccio. Voglio che vi venga trasmesso perché appunto potete imparare al gratis tramite questo canale YouTube. Ti ricordo soprattutto di esercitarti. Trovi qui sotto in descrizione alcune fotografie, ne lascerò magari tre e soprattutto se ti eserciti non esitare a contattarmi perché appunto sono anche disponibile nell'aiutarvi e darvi delle collezioni sia su Instagram o per email, dovunque voi vogliate. Noi ci vediamo in un prossimo video nel mentre continua ad esercitarti e soprattutto ad essere creativo. Un saluto da Marco, ciao a tutti! Grazie a tutti!